Il convegno si articolerà durante tutta la giornata e si dividerà in due sessioni. Nella sessione mattutina il tema che verrà analizzato sarà l'acqua. L'obiettivo di questa prima parte del convegno è quello di sensibilizzare sul corretto utilizzo dell'acqua, sulle buone pratiche che riducono a zero gli sprechi e che ne permettono un utilizzo corretto ed etichemente giusto. Mentre nella sessione pomeridiana al centro del dibattito ci saranno le pratiche di social housing. Gli interventi e i confronti durante il pomeriggio saranno tesi ad evidenziare le potenzialità e i benefici che si possono trarre dall'applicazione di pratiche di welfare condominiale all'interno degli stabili.